Onde Teatrali è un progetto del Teatro Nazionale di Genova e sarà possibile fruirne attraverso il sito del teatro. Saranno dei podcast. Perché questo progetto? Perché ovviamente stiamo vivendo un periodo particolare dove non è possibile venire a teatro e nonostante il teatro abbia un'attività frenetica in questo momento purtroppo al pubblico tutto questo arriva poco, arriva grazie ai social, grazie al sito e quindi abbiamo pensato di proporvi dei testi teatrali in un'altra forma che è molto simile a quella radiofonica. In Italia noi abbiamo questa tradizione dei radiodrammi e quindi prenderemo in esame alcuni testi dal punto di vista sonoro. Abbiamo deciso di lavorare insieme a Monica Capuani che è una scout fantastica di testi stranieri che non conosciamo e a cui non potremmo arrivare se non fosse per lei su quello che ci interessa adesso, di che cosa abbiamo bisogno di parlare, che cosa abbiamo bisogno di ascoltare in questo momento con i teatri chiusi ma la gente che continua a vivere con tutte le difficoltà di questo momento. Sì, noi ci occuperemo della regia di testi teatrali prendendoli per una volta da un punto di vista particolare che è appunto quella del suono, della voce, della sonorità e grazie alle traduzioni di Monica appunto potrete ascoltare dei testi che praticamente in Italia non si sono mai visti né sentiti potrei dire a questo punto. Sì, abbiamo scelto i testi, tra tantissimi testi che abbiamo letto, abbiamo scelto i testi che più ci parevano sufficientemente comprensibili e fruibili attraverso la voce, attraverso il suono. I contenuti hanno come focus la donna, abbiamo cercato anche soprattutto autrici che scrivessero della donna e non solo ovviamente di tutte le relazioni e l'ambiente che circonda la donna, il lavoro, la famiglia, la maternità, lo stare in un mondo globalizzato forse sì, forse no o forse non ancora abbastanza. Questo è stato un lavoro interessantissimo perché c'è tanto, tanto da scoprire che ancora qui praticamente in Italia non si conosce. Sono in particolare degli autori e delle autrici che vengono da tante parti del mondo. Abbiamo per esempio una anglo-egiziana, un altro autore che viene dal Benin, insomma abbiamo cercato di viaggiare il più possibile pur rimanendo a Genova. Anche le attrici sono in predominanza effettivamente al femminile, anzi direi insomma con forte predominanza, due registe, insomma un progetto al femminile.